Dal congresso di Fratelli d'Italia dipenderanno non solo le sorti del partito in provincia di Pavia, ma dell'intero centrodestra. Lo scorso 30 settembre si è chiuso il tesseramento e la fotografia che ne emerge è piuttosto nitida. Vi sono due poli principali. Uno fa riferimento ad Elisabetta Fedegari, candidata alle ultime regionali e capace di raccogliere circa 700 tessere, mentre l'altro a Claudio Mangiarotti, coordinatore provinciale uscente ed eletto al Pirellone, che di tessere ne ha messi insieme circa 650. Vi è poi una terra di mezzo, con tanti esponenti di spicco, a cominciare da Vittorio Pesato e Nicola Gnutta, solo per citarne alcuni, che valgono all'incirca altre 600 tessere. È evidente che questo terzo polo sarà lago della bilancia della contesa, quando deciderà di schierarsi da una parte o dall'altra. Di candidati e dati ufficiali ancora non ve ne sono, ma è ipotizzabile una fase congressuale tra novembre e dicembre. Come detto, i destini di Fratelli d'Italia si legano a doppio filo con quelli di Forza Italia e Lega, spettatori, si fa per dire interessati della contesa. Dopo l'avvicendamento Cattaneo-Bobbio Pallavicini, alla guida dei forzisti infatti, si è rotto l'asse storico tra i tre partiti, formato dai segretari provinciali Alessandro Cattaneo per Forza Italia, Jacopo Vignati per la Lega e Claudio Mangiarotti per Fratelli d'Italia. Mangiarotti è molto vicino alla Lega di Palli, una sua conferma risalterebbe quindi l'asse Fratelli d'Italia e Lega, con Forza Italia relegata a un ruolo da comprimario. Un'eventuale vittoria del Polo Fedegari invece cambierebbe del tutto gli equilibri visto l'appoggio di Ciocca e Bobbio Pallavicini. La Lega finirebbe in minoranza con una nuova sinergia tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, un cambiamento non da poco, soprattutto in vista delle strategie per le elezioni comunali di Pavia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.